Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Arrestato dalla Polizia di Stato a seguito di indagini sulla malavita tarantina, un 32enne che deteneva presso la propria abitazione un ingente quantitativo di droga, destinata principalmente ai quartieri Salinella e Paolo VI. I falchi della squadra mobile, dopo diversi servizi di appostamento, hanno deciso di effettuare una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, incensurato e all'apparenza insospettabile. A seguito della perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto all'interno di una stanza dell'appartamento un vero e proprio magazzino della droga. Appena entrati in casa, l'attenzione dei poliziotti è stata tratta da un cellulare che fungeva da schermo ad una telecamera, posizionata sull'uscio dell'appartamento e che riprendeva la porta d'ingresso. In uno zaino le forze dell'ordine hanno rinvenuto cinque panette di cocaina per un peso complessivo di sei chili, un contenitore in metallo contenente vari tocchetti di hashish avvolti in carta da forno, un involucro di forma cilindrica contenente 40 grammi di hashish in dischi, un contenitore in vetro chiuso con gancio ermetico contenente marijuana, due bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti, tre coltelli da cucina, la cui lama era ancora intrisa di sostanza stupefacente e due rotoli di cellofan, utilizzato generalmente per confezionare la droga. Inoltre nella camera da letto del 32enne è stata rinvenuta una mazzetta di denaro suddivisa in banconote di vario taglio per un totale di 1550 euro. L'uomo ha dichiarato ai poliziotti che la sostanza stupefacente rivenuta all'interno del suo appartamento non è di sua proprietà e che la deteneva per conto di terzi dietro corrispettivo di una somma di denaro che si aggirava normalmente tra 1550 e 2000 euro. L'uomo tuttavia è stato arrestato perché è ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Taranto. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Taranto, oltre 97 mila prodotti, tra cui accessori per abbigliamento privi di etichette, giocattoli sprovvisti del marchio CE e articoli in plastica per uso alimentare, le cui confezioni non erano munite delle informazioni previste dal codice del consumo. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Taranto hanno eseguito alcuni controlli presso due esercizi commerciali ubicati a Pulsano e Fraganiano per contrastare la vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Al termine delle indagini, titolari delle due rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa. Le indagini delle fiamme gialle di Taranto proseguono per disarticolare la catena logistica organizzativa e strutturale della filiera, nonché per recuperare a tassazione i ricavi derivanti dalle condotte illecite. Il progetto della Regione Puglia, che riguarda anche la sanità, comincerà cambiando il sistema di reclutamento dei medici e del personale sanitario. Varieremo un sistema sportello grazie al quale qualunque medico italiano o europeo che volesse venire a lavorare in Puglia potrà presentare la sua domanda, che verrà immediatamente valutata sulla base del curriculum e si cercherà di assumerlo subito. Lo ha comunicato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della visita nel nuovo padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari. È una misura estrema, ha aggiunto il governatore pugliese, al limite della formalità giuridica, ma è necessaria perché ci sono tantissimi ragazzi che sono stati costretti in passato a studiare o a specializzarsi fuori. Noi vorremmo provare a riportarli indietro. Emiliano ha precisato che al di là delle strutture e dei finanziamenti, quello che distingue un buon sistema sanitario da uno cattivo è la qualità dei medici, che noi vorremmo mantenere più alta possibile. Il nuovo sistema ha quindi l'obiettivo di eliminare la procedura concorsuale classica, stabilire dei parametri e dei requisiti standard e procedere alle assunzioni con concorso solo se necessarie, a causa del numero di domande elevato. Sovraffollamento e carenza di personale sono criticità ormai croniche del carcere di Taranto, al punto che l'associazione Marco Pannella ha scritto al sindaco del capoluogo ionico Rinaldo Melucci chiedendo di nominare il garante comunale dei diritti delle persone private di libertà personale. L'associazione ha rilevato che a queste problematiche, che ogni anno contribuiscono a posizionare la casa circondariale tarantina, come la più sovraffollata e quindi peggiore d'Italia, si sarebbe aggiunto negli ultimi tempi un fatto di gravità inaudita. Come riportato da alcuni organi di informazione, infatti, alcuni medici avrebbero finto di effettuare visite specialistiche a detenuti che non hanno mai incontrato. Del resto, scrive l'associazione in un comunicato ufficiale, ripetutamente nel corso degli anni durante le nostre visite ispettive, abbiamo documentato come oltre alla carenza di personale, di polizia e civile amministrativo, a mancare era soprattutto il personale medico. A vuoto, si legge ancora nella nota, abbiamo denunciato per anni l'impossibilità dei detenuti ad effettuare esami ambulatoriali, visite e ricevere le cure minime che la legge garantisce a qualunque cittadino. Per anni nel carcere di Taranto il diritto alla salute non è stato garantito per pazienti che, a differenza di quelli fuori, non hanno neppure la possibilità di potersi far curare altrove. L'associazione Marco Pannella ha specificato che sotto l'allora sindaco Ipazio Stefano nel 2016 riuscì a far istituire dal comune di Taranto il garante comunale dei diritti dei detenuti, una figura presente nella maggior parte dei comuni e delle province italiane. La successiva amministrazione, si legge nel comunicato, nei cinque anni del primo mandato e nel successivo non ha però mai dato seguito a quella delibera, mancando di nominare questa figura così importante per la realtà di Taranto e per un istituto penitenziario così compromesso. Per tale ragione l'associazione Marco Pannella chiede al sindaco e presidente della provincia Rinaldo Melucci di sopperire a questa grave mancanza compiuta e dare seguito alla delibera, provvedendo alla nomina del garante dei diritti delle persone private di libertà personale per il comune di Taranto. Tutto ruota intorno a Capuano e il tecnico rosso-blu continua a scandagliare il mercato alla ricerca di quei profili che possano sposare il progetto. Trova conferme l'interesse per il difensore classe 2001, ex di Potenza e Piacenza, Niccolò Armini. Ma il nome nuovo è uno di quelli che creano suggestioni. Si tratta di Antonio Gala, centrocampista napoletano classe 2004, vero e proprio gioiellino della cantera del Milan. Resta sempre calda la pista che porta Cristian Tommasini, che la dirigenza ionica vorrebbe riportare allo Iacovone. Stando a indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, non ci sono al momento sviluppi concreti in merito a Kevin Candellori. Il forte centrocampista classe 96 piace al Taranto che lo avrebbe voluto già nella sessione invernale dello scorso mercato, ma al momento, pur restando un nome spendibile, non sembra esserci una vera e propria trattativa. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.